Fino a qualche mese fa, ero sulla stessa lunghezza donna, sembravo stutato il benedetto di molto umore per nulla che a proposito dell'innamoramento delle donne diceva molto meraviglio, che un uomo, vedendo quanto sia pazzo un altro a dedicarsi anima e corpo all'amore possa, dopo aver riso per levare foglie degli altri, diventare gli stesso oggetto medesimo di schermo dichiarandosi innamorato, e così è Flau, l'ho conosciuto quando l'unica musica che sapesse interessato era quella di tamburi e piffe adesso preferisce ascoltare flauti e tamburelli, l'ho conosciuto quando avrebbe camminato dieci leggi per poter ammirare una bella armatura ora egli starebbe dieci notti sveglio a studiare la forza di un uomo giusto a cuore il suo linguaggio era stretto e stringato, così come si addice a oggetto l'uomo è un soldato però mi si fa quanto aggrazioso le sue parole sono un magnifico bagnetto di molte e insolite vivande potrei anch'io convertirmi così e guardare con occhi simili non saprei credo di no non giurerei che l'amore non possa trasformarmi in una meravigliosa ostrica ma potrei giurare almeno che prima di avermi trasformato in ostrica non arriverebbe mai a trasformarmi in imbecille una donna è bella, tanto meglio un'altra è saggia, tanto meglio, un'altra è virtuosa, tanto meglio ma finché una sola non riunirà in sé tutte queste grazie, nessuna donna entrerà mai nelle mie grazie ricca dovrebbe essere, questa è certa saggia, lo tiro avanti prova, o nemmeno un indirizzo vedola, o non la guardo nemmeno dolce o non la voglio vicino a me di bella conversazione sì, musicista eccellente beh, per quello lasciamo fare anche